Buonasera Pompini, nipote mio abbiamo appena assistito alla fine della cavalleria. Dio vi giudicherà! Sua parte le veste, il cavaliere Muglielmo di Locarè, Re Filippo, sia valedetta! La vostra razza per prediti generazioni! Hai perso tutti i processi contro di me. Per rubarvi l'erenità avete venduto le vostre figlie ai figli del re e inceduto la borgogna per l'attuato. Ecco, i ciocchi del Vaticano e del potere temporale, altro che cose spirituali, bruciavano i banchieri per prendergli i soldi e li costavano di eresia naturalmente, perché non c'era... Non c'è qualche avventura, come facciamo voi? In fondo vi ho spiegato una risidua sempre via. Nel soggetto, i vostri fratelli sono tornuti come un branco di cecchi. Mi avete già parlato, Harry, mio padre. Beh, è triste, però oggi le cose sono cambiate, no? O no? Beh, vi lascio, questo è stato un altro mio commentario al telegiornale. Mi raccomando, vedete il mio canale di Youtube, Ciao e da te.